Ciao amici del Giro d'Italia, oggi parliamo di come ci si comporta quando si arriva a una rotonda. Mi raccomando, quando raggiungiamo una rotonda dobbiamo fare molta attenzione, soprattutto se abbiamo un ciclista davanti. Perché il ciclista, soprattutto se deve girare a sinistra, farà difficoltà a indicare con la mano e a togliere le mani dal manubrio. Quindi cerchiamo di dargli la precedenza, non superiamolo perché se no rischiamo di tagliare la strada. Oggi consegno l'adesivo io rispetto al ciclista a Cristian Salvato. Io consegno a te il simbolo dell'associazione, sempre del rispetto alla distanza di sicurezza. E' importante che lo facciamo tutti, che questo può salvare una vita umana. Ricordiamoci che non sono solo corridori ciclisti professionisti, ma può essere il nostro amico, il nostro figlio, la nostra moglie e quant'altro per aiutarvi a andare per strada. Io rispetto il ciclista, fatelo anche voi!